Io auguro a tutte le donne una favola così e soprattutto che vi succeda come è successo a me. Il mio uomo non aveva mai regalato a nessuna altra donna un anello e non aveva mai detto certe parole a nessuna. E quindi, perché poi nella vita uno comunque ha il suo passato, però quando certe cose le fai una volta sola e unica, hanno un altro valore. E questo per me ha tanto valore. Non c'è ancora ovviamente una data e una promessa. È una promessa e sono quelle promesse che si fanno una sola volta. Quella promessa che sogni da bambina, che una sera d'estate arriva. Come vedete mi commuovo, ma a parte che sto piangendo da ieri, sinceramente. La nostra era una bellissima promessa d'amore e a dire la verità non era mai successo neanche a me. È stata la prima volta per tutti e due e io non penso che ci sia niente di più bello. E con questa storia voglio augurare lo stesso amore a tutte le donne, a quelle che ci credono davvero. Alle donne che hanno nel cuore tanto amore, quello vero però, quello che fa solo bene. E' a loro che dà queste mie storie e questa promessa d'amore. Siamo in civilleria perché sono venuta a stringere un pochino l'anello perché era un po' largo. E' stata piangendo con me in tante. Grazie. Mi fate comodere ancora di più. Grazie.